Salta la pimpa, andando al netto, fa un bel bagnetto, corre in cucina, saluta Armando, esce correndo, segna le fiole! Ciao a tutti amici, e benvenuti in una nuova puntata di Tessiglone Show, e oggi recensiremo la pimpa, la mitica cagnolina con i poarros, bellina bellina e tanto carina! E' una serie mimata italiana, creata da Alta, prodotto da Rai Ragazzi, Prago Cosmi, Copanini e altri produttori, la serie è iniziata nel 1975 ed è ancora in corso, in quanto poi la pimpa hanno fatto il merchandising nel Corriere dei Piccoli per le riviste degli anni 70-70. E hanno fatto anche serie animate, la prima serie è del 1982, poiché la puntata 26 delle puntate degli 82, l'ultima puntata del 1980, che è la puntata pilota della pimpa e viaggio in Africa nel 1980, l'ultimo episodio del 1982. Poi, la seconda serie si chiamava Le Nuove Venture della Pimpa del 1997, la terza stagione del 2010, chiamata la pimpa, e la quarta stagione del 2000, chiamata sempre la pimpa. La serie è stata trasmessa su Rai 1 nell'82, Rai 2 negli anni 90 nel 1992, e Rai 3 negli anni 2000, e su Rai Yo Yo nel 2006 circa. Perché? Perché? Lo danno sempre la pimpa sulla Rai Yo Yo di notte, e poi in estate lo trasmettono alle 12. In tutte le stagioni, gli episodi delle stagioni della pimpa sono tutte 26 in totale, e in tutto sono 96 episodi. Se iscrivete nei commenti, nella puntata di testo di una show la pimpa, è beccato. Allora, di che cosa si tratta la serie? Il cartone parla delle avventure della pimpa, che ha mille amici, anche per 303 amici della reggenezza, ha un canale YouTube, che la pimpa ha parecchi iscritti sul suo canale, perché la pimpa le piacciono. La pimpa va con l'armado, e fa molte avventure e incontrae nuovi amici nel suo canale. Adesso vediamo i personaggi, la pimpa, la pimpa, la pimpa, la pimpa, la pimpa, è una bellissima cagnolina, con i pua rossi belli belli, che lei, e lei, c'ha sempre la lingua in fuori, perché è una pimpa, perché lei, c'è pua rossi, sembra una cagnolina bellina. Bellissimo personaggio è lei, che lei ha sempre la lingua in fuori, come la gatta rosita, la pimpa. Lei è un'avventuriera che scopre il mondo, paese, città, nel suo tema. È grazie con il suo padrone armato, che lo fa amiciare anni. Non sopporta gli gnocchi, non li mangia mai, finito il latte, poi il caffè, poi fa quelle cose che ha, lei li fa fare cavolo, eccetera, eccetera. Poi abbiamo l'armando, l'armando è il mio personaggio preferito della pimpa. Vorrei che l'armando apparisse in ogni episodio della pimpa, così l'armando sarebbe molto contento nella serie animata della pimpa. Porta un cappello verde, una giacca blu, una cravata, come Spongebob, pantaloni. L'armando, lui, vuole sempre, quando la pimpa è da sola, Armando va sempre a lavoro, va sempre a lavoro, e l'armando è l'unico a non vedere cose amiche, cose che parlano. Solo la pimpa lo sa. Poi abbiamo la gatta rosita, la gatta rosita di merda che è lì, lei apre sempre la bocca nella sigla della pimpa che vi lascio in descrizione. La sigla è in descrizione che ha fatto molto successo sul canale Paolo Paoli New, il video che fa molto successo sul canale. La gatta rosita è molto bevina, è bella, è blu e simpatica. Poi abbiamo Colombino, che è colombino, è un pulcino della pimpa, lui fa l'idiotta di diri, ha uno zio con il cappello e lui è un pulcino come più più di Monang, che fa colombino e fidanzato di rosita. Poi abbiamo il coniglietto, che ha qua blu, che è fidanzato per la pimpa, coniglietto, lui è divertente, porta un dentino come Spongebob, Patrick il magotto, il magicante con il dentino. Quello che è il coniglietto, è il coniglietto di sempre. Poi abbiamo Tito, un cagnolino blu bollione e un troppo morfo, che lui è un blu, che ha la voce di Davide Garbolino, è un piccolo bluino, è un gatto da iniziati, che è un cagnolino blu che hanno vinto nelle giostre. Mentre che gli altri, che nella puntata di La Pimpa 3, la terza stagione, lo chiama Tito, che hanno vinto nel Luna Park, Tito ama giocare a palloni, fare cose bellissime, fare cose per maschietti, e sarà il compesce dell'armadito. Poi abbiamo anche Olivia Paperina, Olivia Paperina, è una paperina cogliona, testarta, che è nata nel giorno di Natale, il 25 dicembre. Lei è una bellissima paperina, che l'hanno trovata a Natale morta e disperata, sempre. L'Armando è di dare, lei vive assieme all'Armando, la Pimpa, Tito, lei Olivia Paperina non si può accorgere, che se è una paperina così bellissima, è bellissima, Olivia Paperina, che la mamma è testarta, eh. Olivia Paperina testarta, e poi abbiamo anche i personaggi, un ipopotamo, un leone, tante cose, la sveglia della Pimpa, il gallo della Pimpa, molti personaggi, sono stati. E la mia opinione è, la Pimpa l'ho conosciuta negli anni 2010, che mi piaceva la Pimpa. E la mia puntata preferita della Pimpa è, la lana racchè. E poi, la sapete, ho recensito già 44 gatti, come i cartoni, che alla fine del video, con le immagini ufficiali, vi lascio la presa di Tessiglone Show, che puoi riguardare, riguardare, le puntate di Tessiglone Show, il commentale mi piace. Ho recensito 44 gatti, come puntata 12 di Tessiglone Show, ma parleremo anche altre puntate. In futuro, altri, e recensirò altri cartoni animati italiani, cioè, Lampadino e Caramela, che recensirò giovedì. Poi, arriverà anche Topo Gigio, il Topo più bello del mondo, poi Topo Tipo, e poi a finire le Beribis. Ma tranquilli, continuano anche nella stagione estiva, stagione 2, e niente, niente. Questa è la puntata di Tessiglone Show della Pimpa. Iscrivetevi al canale, mettete più mi piace, condividete, commentate, sigla in descrizione, e alla fine del video vi lascio l'immagine ufficiale, con la playlist di Tessiglone Show stagione 1, e il video precedente di Tessiglone Show stagione 1. E noi? E noi ci vediamo alla prossima puntata, con il primo cartone animato, in versione in lingua A, con le mani, quello che è, primo cartone strano, il Lampadino e Caramela. Ciao! Salta da letto, a bevagnetto, corri e cucina, saluta Armando, esce correndo, ma io vi lascio la sigla più famosa della Pimpa sul mio canale, vi parlo poi di nuovo, la sigla in descrizione. Ciao! Che la Pimpa è una di noi! Ciao! Che la Pimpa è una di noi!